La Chiesa è in cammino verso il Sinodo dei Vescovi che si terrà nell'ottobre del 2022, quindi tra circa un anno. Valentino Salvoldi, teologo morale, ha scritto un libro insieme a Vittorio Rocca, il titolo è Chiesa dove sei una comunità dal volto sinodale. Abbiamo detto il Sinodo dei Vescovi è tra un anno ma la Chiesa ha già iniziato il cammino sinodale diocesano. Inizierei però a spiegare che cos'è un sinodo. La parola lo dice, camminare insieme, sentirsi Chiesa, camminare verso l'ideale di trovare Cristo che sia in ciascuno di noi, camminare verso la presa di coscienza della responsabilità che la Chiesa non è Papa, Vescovi, Sacerdoti, la Chiesa siamo tutti noi battezzati. In virtù del battesimo siamo profeti, sacerdoti, re, missionari, non siamo cristiani, siamo addirittura Cristo. E quindi parlare di sinodo vuol dire coscientizzare la gente perché prende le sue responsabilità a partecipare alla vita della Chiesa in generale, della diocesi ma in particolare della propria parrocchia in modo tale che ognuno si senta responsabile di mettere a disposizione il proprio carisma, il dono che ha a vantaggio di tutta la comunità. Qual è dunque lo scopo del sinodo? Molti sbagliano quando si aspettano dei grandi documenti, dei grandi pronunciamenti da parte della Chiesa. La Chiesa ha fin troppo documenti, tanto è vero che il Cardinal Martini una volta in maniera familiare, in maniera conviviale, mi dice Valentino dovremmo andare in giro con l'ombrello per ripararsi dei documenti della Chiesa, cioè sono troppi. Invece di produrre carte, il sinodo ha questo scopo, di produrre carne, cioè non un sinodo di carta con dichiarazioni eccetera, ma un sinodo che riesca a far prendere coscienza che il mio corpo è il corpo di Cristo. Io sono responsabile di sviluppare il meglio dei miei talenti, metterli a disposizione della comunità. E questa era la grande idea che ha animato Giovanni XXIII all'apertura del Concilio Vaticano II. Questo nostro grande Papa ha iniziato così il discorso ufficiale del Concilio. E' soltanto l'aurora, bello queste immagini, duemila anni di cristianesimo com'è? Che cosa sono di fronte ai 5 miliardi o più che, altro che 5 miliardi, esiste la Terra? Cosa sono duemila anni? E' soltanto l'aurora. In questa aurora cos'è che dobbiamo fare, ci domanda il Papa? Innanzitutto eliminare i profeti di sventura, quelli che vedono tutto in maniera negativa, dare anticipi di fiducia alla gente che, scoperto la propria bellezza, metterà a disposizione degli altri i propri doni, ascoltando. Ecco, sidodo implica ascolto. Lui che aveva l'intelligenza e sufficienza di una grande intelligenza, dico, per comandare, per governare la Chiesa, che cosa ha fatto? Si è messo in ascolto di tutti i vescovi del mondo per dire io, Chiesa, popolo di Dio, posso dire qualche cosa soltanto dopo aver pregato lo Spirito Santo che ci illumini, dopo aver ascoltato tutti i vescovi e quando io capisco il pensiero della Chiesa posso iniziare questo cammino per valorizzare i singoli credenti. Quindi, ecco, lui era proprio dall'idea. Più che fare dei documenti, cerchiamo di porre quelle premesse in virtù delle quali i cristiani, sentendosi valorizzati, diano il meglio di se stesso là dove sono. In famiglia, innanzitutto, sul posto di lavoro e nella comunità ecclesiale. Soprattutto in Occidente assistiamo a un cristianesimo in difficoltà, sempre meno gente dichiara di essere credente, vediamo le Chiese che progressivamente si svuotano, di che tipo di cambiamento avrebbe bisogno la Chiesa? Quando tu dici Occidente io farei questa istituzione, l'Occidente e Europa sì, è in crisi, l'Occidente e l'America io vedo Chiese stracolme, Chiese anche separate dalla Chiesa cattolica, ma pur sempre cristiane, dove addirittura nei incontri di preghiera si arriva a 30, 40, 50 mila persone che attratte dalla bellezza, cantando, parlano di Dio, addirittura piangono in queste. Perché questo fenomeno? Dimostra che la gente ha sete di Dio, che la gente ha bisogno di pregare, ha bisogno di una comunità. Che tipo di cambiamento occorrerebbe questo? Risvegliare la Chiesa. La nostra è una Chiesa di persone anziane, con tutto rispetto che ho avverso gli anziani, ma una Chiesa che sa di vecchio, una Chiesa che... Faccio un esempio, 50 anni che io inizio la Messa e sento dire al tuo santo altar, guarda questo fenomeno, ma per carità non ne posso più io, che sono prete. Se invece il canto fosse bello, se ci fosse un'atmosfera viva, allora una persona sarebbe attratta di venire in Chiesa. Siamo in un periodo in cui, direi, ha allontanato la gente questa situazione che uno scrittore ha definito, parlando a nostro tempo, siamo nel tempo delle passioni tristi. Io, direi, riferito alla Chiesa, siamo nel tempo delle liturgie tristi. Che tipo di cambiamento avremmo bisogno? Una Chiesa che sia bella, che sia affascinante, con delle liturgie coinvolgenti, in modo tale che una persona, sentendosi accettata, sentendosi amata, sentendosi valorizzata, aspetti con gioia il momento di andare in Chiesa per celebrare la Messa, morte e resurrezione di Cristo, per celebrare la propria fede, per incontrare la comunità. Abbiamo detto all'inizio che il percorso sinodale si è aperto con una prima tappa che riguarda le Chiese diocesane. Qual è l'importanza di questa fase preparatoria? È essenziale, perché se abbiamo detto che vogliamo una Chiesa di carne e non di carta, dobbiamo fare in modo che la gente senta l'urgenza e la bellezza di prepararsi a tutti i livelli, conoscendo la Bibbia, ascoltando la parola di Dio, conoscendo la teologia morale presentata in maniera bella, cercare di capire che io devo partecipare alla vita della Chiesa cominciando, per esempio, nel creare un consiglio pastorale, un consiglio pastorale parrocchiale, dove non è tanto necessario la votazione da parte dei fedeli, votazione anonima, è un tipo di partecipazione che non mi piace, che non ha molto senso. Se lo Spirito Santo è dato a ciascuno di noi, come dovrebbe nascere un consiglio pastorale che aiuta poi il parroco e la gente a fare progressi? Una persona accosta all'altra, le aiuta a scoprire i suoi doni, i suoi talenti, la sua bellezza, le dice, perché non metti a disposizione della Chiesa e degli altri questo tuo talento specifico? Tu sei bravo, per esempio, nell'amministrazione? Ecco, prendi tu in mano l'aspetto finanziario della parrocchia. Non deve essere il parroco a pensare al tetto della Chiesa e all'oratorio. Pensa tu. Tu hai un'altra capacità di ascoltare gli anziani. Ecco, tu fai il ministero con gli anziani, eccetera. Allora, una persona che incoraggia l'altra a farsi avanti, a mettere a disposizione dei propri talenti, parlare col parroco il quale dirà, va bene. Tu sei capace di farlo questo? Fallo. Quindi, già il metodo, è importante il metodo di come ci si sceglie. È importante il cammino che si vuol fare. È importante questo anticipo di fiducia che la gente dà gli uni agli altri. Nelle nostre Chiese molte volte non è palpabile quello che dice San Paolo, gareggiati gli uni agli altri nello stimarvi, nello portarvi avanti, nel dare anticipo di fiducia. Ecco, il metodo è fondamentale riuscire a capire quanto sia bello che lo Spirito Santo circoli tra di noi, sia comunicato gli uni agli altri col suo Spirito Santo che è amore, dici dai, fatti avanti in modo tale che la tua presenza, i tuoi talenti servano per far crescere la comunità e per creare la civiltà dell'amore. E' chiaro che una figura fondamentale del Sinodo è quella del Papa. Come dovrebbe essere il volto della Chiesa secondo Papa Francesco? La Chiesa che sia popolo di Dio, la Chiesa fatta di cristiani che sono contenti di partecipare al bene comune, quindi una Chiesa che non sia monopolio, feudo dei sacerdoti. Guarda, come giornalista ogni tanto partecipo alle riunioni dei giornalisti e ho sentito questa critica da parte di qualcuno. Noi giornalisti non abbiamo più bisogno di criticare la Chiesa e i sacerdoti perché ci pensa già il nostro Papa, il nostro Papa che veramente è estremamente esigente nei confronti dei sacerdoti che molte volte vede troppo rigidi, ingessati e autoreferenziali. Sono parole sue. E lui, questo Papa, che ci invita ad essere più rilassati, a riandare alla teologia di Giovanni XXIII, quando lui diceva la Chiesa deve essere come una comunità che si abbevara dalla fontana del villaggio. La Chiesa non deve vivere con la testa voltata indietro, non deve venerare le ceneri del passato, deve avere il coraggio di guardare al futuro, guardare al futuro con speranza e quale speranza della partecipazione dei laici della Chiesa. Certo, e lo dice ancora il Papa, finché i preti penseranno di essere coloro che hanno in mano la parrocchia, non permetteranno ai laici di farsi avanti. Di fronte al fatto che si va dicendo ci sono troppo pochi preti, questo Papa cosa pensa? Ce ne sono anche fin troppo. Cos'è che occorrerebbe? Un motto che io dico dappertutto quando faccio delle riunioni con i sacerdoti in Africa e in Asia. I sacerdoti, i preti, non tanti ma santi, poche persone che sappiano valorizzare i carismi dei cristiani in modo tale che tutti si sentano coinvolti nella responsabilità di sapere che Cristo ha messo la Chiesa nelle nostre mani. Certo, il Papa è importante, i vescovi importanti, i sacerdoti sono importanti ma la Messa è concelebrata. Ci deve essere la gente che prega, sceglie, guarda in avanti con speranza al futuro. Quindi, un futuro che c'è, un futuro che c'è, ecco, io continuo a dire che siamo, come diceva il Papa all'inizio del cristianesimo, guardiamo avanti con fiducia, con serenità in modo tale che quello che è passato è passato, bisogna conoscerlo, il futuro non lo conosciamo ancora, viviamo bene il presente invocando lo Spirito Santo che ci aiuti a discerne qual è la scelta migliore in questo momento. Discernere con prudenza, dove la parola prudenza non vuol dire andare piano, la parola prudenza in greco dokimazain vuol dire vagliare e scegliere il meglio di ogni situazione. Ora, se il meglio di una situazione mi porta al martirio, io scelgo il martirio, quindi guardare con fiducia con quella prudenza che vuol dire scegliere il meglio di ogni situazione, vivere cambiando il motto molto bello del cardinale Neumann. Vivere è cambiare e se arriva alla perfezione cambiando continuamente. Quali dovrebbero essere quindi le priorità? Investire sui giovani. Io penso che se un sacerdote in una parrocchia formasse una dozzina di persone all'anno formarle un po' bene fra questi può essere attenzione su qualcuno in particolare nel giro di una decina d'anni riuscirebbe ad avere un gruppo di giovani che si sentono responsabili di aiutare altri giovani perché sono i giovani che salvano i giovani. Allora cos'è che è necessario? presentare ai giovani cose belle attraenti in modo tale che loro non hanno bisogno questi giovani che papà e mamma dicono va a trovare la fidanzata sono capaci di andare a trovare la fidanzata. Se la chiesa si presentasse in modo bello attraente gioioso sarebbero loro a chiedere ancora. Io ho visto durante i campi scuola certo io ho il vantaggio che vado e vengo non ho il peso della quotidianità però vedevo quando tornavo in Italia e facevo campi scuola avevo 100 150 ragazzi che venivano tutte le parti dell'Italia una settimana 15 giorni non volevano più andare a casa la bellezza dallo stare assieme la bellezza salverà il mondo quando si sentono questi ragazzi circondati d'affetto quando sanno che la chiesa investe su di loro a loro da anticipi di fiducia non presentandosi con l'odioso tu devi ma con l'incoraggiamento con l'incoraggiante tu puoi tu puoi espirare all'alto tu puoi sognare tu puoi fare grandi cose o come ha detto Cristo se tu credi fra i miracoli più grandi di quelli che io ho fatto con l'incoraggiamento è un'unità si sentono si sentono si sentono su il con l'unità di cui si sentono Grazie.